Io l'ho sempre detto, non mi turbo delle prassi parlamentari ostruzionistiche perché fanno parte anch'esse della vita democratica. Se un Movimento 5 Stelle fa ostruzionismo, il Governo e la maggioranza hanno diritto di porre la fiducia e si gestiranno i tempi in maniera conforme. Non credo neanche che sia una perdita di tempo perché sarebbe un giudizio ingeneroso. Chi fa l'opposizione può anche usare l'ostruzionismo. Chi governa deve usare gli strumenti regolamentari come la fiducia per realizzare le proprie azioni di governo.